Nella settimana di ferragosto è già entrato nel vivo il turismo nel capoluogo d'Abruzzo, che fa registrare numerose presenze sia di visite, mordi e fuggi, sia di prenotazioni per diversi giorni. Nel secondo caso il capoluogo è spesso usato come punto di partenza per gite nel comprensorio alla scoperta delle bellezze del territorio. C'è chi viene e sta proprio all'Aquila per diversi giorni, proprio sul nostro territorio, in città qui e sta per 4-5 notti. Ci sono tanti però per esempio che invece fanno la spola, vengono qui da noi e fanno appunto il turismo cosiddetto mordi e fuggi. Sono magari sulla costa e ci raggiungono in giornata, fanno l'esperienza qui all'Aquila, poi il pomeriggio vanno sulle montagne a Campo Imperatore. Il turista che viene ovviamente da noi qui a Welcome AQ ci richiede per fortuna la nostra navetta turistica, che è il nostro mezzo ecologico con cui facciamo e proponiamo questi tour della città. E non solo ovviamente, telefonate, mail, richieste per fare poi anche tour attraverso l'Interland, lo splendido Interland che abbiamo, la zona della Baroniera, la terra dei Vestini, la zona di Amiternum che deve registrare appunto un po' un disagio nella visita dei monumenti e dei siti archeologici. Come denunciato da diversi turisti, il sito archeologico di Amiternum è spesso chiuso e gli operatori turistici si augurano che nella settimana di ferragosto la sovrintendenza archeologica si organizzi per aprire il sito, al contrario dello scorso anno, rimasto chiuso con la motivazione della mancanza di personale. Il capoluogo d'Abruzzo si conferma dunque una meta turistica gettonatissima sia per le bellezze paesaggistiche che per quelle architettoniche ed artistiche. Scoprono la città, non la conoscono, devo dire, si trovano entusiasmati. Quando fanno il Giro dell'Aquila rimangono colpiti dalla bellezza della città, dalla grandezza della città, dalla storia che possiede questa città e soprattutto dalle impostazioni e dalle bellezze architettoniche e artistiche che abbiamo. Quindi dobbiamo arrivare a far passare questo messaggio l'Aquila in una delle città d'arte d'Italia.